Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con la zona caffè di Serie B, video che state vedendo alle 9, registrato per i ragazzi alle 8 con Cremonese Parma, ferme sul risultato di 1 a 1 al settantesimo, magari la commenteremo più avanti questa partita, ma ci concentriamo su tutte le altre 9 gare, ci tenevo a farvi uscire questo video di domenica per iniziare poi la prossima settimana con tutti i format dedicati per la non aggiornata di Serie B. Mi raccomando però, prima di partire col video, vi devo chiedere un pollicione in su qua sotto, 30, 40, 50 mi piace per supportare questo contenuto, un'iscrizione al canale, totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, non vi costa nulla e noi partiamo subito. Partiamo da Feralpi su allo Spezia, 1-2, prima vittoria dello Spezia ragazzi, sofferta, soprattutto nel finale possiamo dire perché il gol di La Mantia aveva rimesso in gara la squadra di Stefano Vecchi che poco prima di quel gol aveva meritato di essere sotto di due gol. Ho visto uno Spezia sicuramente più squadra, sicuramente più compatto, sicuramente più cattivo, forse anche più cinico nel creare l'occasione al gol e nel portare a casa una vittoria di vitale importanza che lancia lo Spezia a quota 5 punti nelle prime 7 partite, una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte per l'appunto della prima gara vinta dopo un inizio horror da parte di Nguoni, di Massimo Malvini che non possa essere questo un nuovo inizio per questa squadra. Ligure la Feralpi rimane a quota 4 punti, sono tre sconfitte nelle ultime 5 partite però con i quattro punti raccolti anche nel mezzo. La vittoria contro l'Ecco è il pareggio di qualche giornata fa. Proseguiamo con Brescia Ascoli 1-1, devo dire un pareggio che deve stare stretto al Brescia perché ha fatto una prestazione importante, una prestazione dovuta anche dal subito magari inseguire l'avversario perché la sblocca l'Ascoli con Falzerano e poi ragazzi è bravo il Brescia a pareggiarla con Moncini Brescia che forse aveva avuto anche qualche occasione magari per vincerla oltre al gol annullato ragazzi a Olzer ma comunque devo dire un Brescia che nel complesso mi è piaciuto ho visto un Ascoli un po' troppo remissivo, deve cercare di gestire meglio il vantaggio ma soprattutto cercare anche di cercare un eventuale raddoppio quando è la possibilità di andare in vantaggio e di gestire magari per l'appunto il vantaggio, cercare di sfruttare meglio anche determinati contropiedi. Pisa-Cosenza 1-2 questo Cosenza ragazzi è da inizio anno che ve lo dico, è una squadra totalmente diversa scordatevi, il Cosenza dell'anno scorso, questo è un Cosenza capace anche di vincere al 98esimo dopo essere stato ripreso al 95esimo a Pisa come è successo proprio ieri ragazzi perché il Cosenza fa un primo tempo straordinario, veramente un primo tempo ottimo della squadra di Caserta culminato con il vantaggio subito di Dries Volza e anche complice poi magari anche l'espulsione al quarantinesimo di Barbieri a condire tutto il meglio, un ottimo per l'appunto primo tempo del Cosenza pareggia Caetano Masucci al 94esimo ragazzi su una bella azione fatta da Beruato questo bel passaggio filtrante in avanti, non era in fuorigioco Masucci, tiro al volo in girata e palla che si insaccherrete ma poi l'uomo in più del Cosenza ovvero Simone Mazzocchi è arrivato quest'estate sul Tirol e l'uomo in più di questa squadra dalla panchina entra e determina, entra e determina in tutti i sensi, fa goli importanti, fa goli importanti oltre il novantesimo minuto e per l'appunto regala tre punti pesantissimi al Cosenza che si lancia in classifica, ottavo a quata 11 punti, altro tassello verso una salvezza tranquilla che può raggiungere la squadra di Caserta, mentre per quanto riguarda ragazzi il Pisa è la terza sconfitta in sette partite, otto punti raccolti, c'è tanto da lavorare per Aquilani una cosa vuol dire sul Pisa ragazzi, troppa espulsione, il Pisa praticamente un'espulsa partita anche se devo dire che in 10 contro 11 nel secondo tempo contro il Cosenza ha fatto vedere anche buone cose, buone trame di gioco offensive ma non puoi sempre giocare in questo handicap dell'espulsione sulle spalle Modena-Venezia, 1-3, che bella partita innanzitutto, mi è piaciuta molto la sblocca e il Modena con Bonfanti con una grande girata di testa poi è bravo il Venezia a sfruttare le qualità dei singoli, dei propri giocatori perché il Venezia fa tre gol, secondo me due sono bellissimi ovvero quello di Giktier che è il momento di un gol del 2-1 e quello di Biarkason, il 3-1 chiude la partita, un gol straordinato alla distanza una palla che batte Seculin e per l'appunto mette in saccoccia altri tre punti per il Venezia che doveva riprendersi dopo la batosta casalinga contro il Palermo e Sala quota 15 punti in otto partite, quattro vittori, tre pareggi, una sconfitta è lì la squadra di Vanoli pronta a lottare per un'eventuale zona, promozione diretta per il Modena è una sconfitta sì pesante, se non sbaglio anche la prima dell'era bianco in panchina dopo sei risultati utili consecutivi con tre pareggi e tre vittorie peccato per il Modena perché poteva gestire meglio il vantaggio anche se devo dire dall'altra parte ha avuto la sfortuna anche di subire tre gol bellissimi perché il gol di testa di Altare è un gol molto bello da vedere e molto difficile da fare Gipker fa una giocata da giocatore diverso, da serie B, da giocatore più forte in serie B e poi Biarkason per l'appunto conclude la partita con un gol stratosferico dalla distanza andiamo avanti con Ternana Reggiana 3-0, poco da dire ragazzi Ternana che vince, stravince e merita di vincere contro una Reggiana che non mi è piaciuta per niente per atteggiamento, approccia la partita disastroso, continua la partita disastroso non ci sono dubbi su questa vittoria meritata e che ci voleva per la Ternana che la rilancia in classifica, 5 punti adesso in 8 partite, prima vittoria stagionale in casa con tre gol di scarto sicuramente famore da tutto il gruppo e soprattutto l'allenatore visto che comunque quest'anno non hanno particolare per la Ternana perché l'obiettivo dichiarato è una saldezza e dovrà essere ottenuta e sudata fino all'ultima giornata 0 punti per la Reggiana per l'appunto che rimane a quota 7 punti è sconfitta molto pesante, c'è tanto da lavorare per Nesta passo molto indietro rispetto ai 4 risultati consecutivi raggiunti prima di questo stop inaspettato possiamo dire alle gare di oggi ci arriviamo adesso, Palermo sul tiro al 2-1 grandissima vittoria del rosa nero che ragazzi rimontano una gara contro una squadra che difficilmente subisce due gol in una partita ma la caparbietà, la forza, anche magari la spinta del pubblico di un Barbera sempre stracolmo di persone fanno ribaltare al Palermo nel secondo tempo il gol di vantaggio di Cervo firmato per l'appunto nella prima frazione del gioco un gol bellissimo, un gol molto molto da giocatore con una tecnica importante quella di Cervo che sblocca per l'appunto la partita ma poi c'è Caroni e Aurelio, due difensori, ribaltano il risultato e lanciano in altissimo il Palermo in classifica secondo a quota 16 punti e deve essere questa la posizione che deve avere la squadra di Corini Corini da qui fino a tutta la stagione perché la squadra è costruita per vincere sul tiro ragazzi che incassa la prima sconfitta stagionale rimane comunque non a quota 10 punti rimane comunque un ottimo avvio quello fatto della squadra di Bisoli in queste prime sette partite di campionato per la squadra di Bolzano Bari come 1-1, tanto rammarico per il Bari deve avere tanto rammarico il Bari che deve cercare in qualche modo di provare a fare più gol comunque crea, il Bari ne crea occasioni, oggi qualche azione in più l'ha creata però dopo che hai un vantaggio, dopo che la sblocchi anche se sei in 11 contro 10 non puoi permetterti soprattutto perché sei in 11 contro 10 non puoi permettere di prenderti quel gol su calcio di punizione con il gol poi formato da Bellemo al 66, dura due minuti solo il vantaggio del Como e c'è del tanto lavorare per Mignani squadra che fa fatica a vincere e che raccoglie ragazzi su 8 partite giocate il sesto pareggio una vittoria e una sconfitta dietro i due risultati 4 pareggi nell'ultimo e 5 con una sconfitta nel mezzo quella di nel turno infrasettimanale per il Como un punto molto d'oro che allunga la stessa consecutiva e supera per me il test di maturità che avevo detto nel video precedente non doveva perdere e non ha perso facendo una gara anche da squadra vera in un 10 contro 11 per tutto il secondo tempo Sampdoria 1, Catanzaro 2 la Samp in questo momento è un disastro salvate la Sampdoria questo è lo slogan che voglio dare a questa partita Samp ragazzi penultima acquata 3 punti, 3 sconfitte nelle ultime 5 4 sconfitte in casa 5 sconfitte in generale c'è tantissimo da lavorare per Pirlo vedremo se gli sarà data l'opportunità perché ragazzi la Samp in questo momento o cambia marcia rischia di fare una doppia retrocessione che sarebbe amarissima per tutto il club per la neoproprietà Radrizzani per tutti i tifosi bluciarchiati che in quest'anno particolare in Serie B sono abbonati in 18.000 per Catanzaro e non è niente di nuovo una squadra che gioca bene a calcio se vi vedete il secondo gol di Catanzaro capite come si gioca a calcio un gol stratosferico di una squadra forte che sta migliorando anche in fase difensiva e che si lancia in classifica perché in questo momento è quarta quota 15 punti a un punto solo dal secondo posto quota dal Palermo quota 16 va detto che comunque la Samp nel secondo tempo soprattutto all'inizio ha avuto qualcosa di interessante una su tutte è quella di Borini con la traversa colpita a portiere praticamente battuto Città dell'Alecco 2-1 grandissimo rimonto del Città tanto amare in bocca per il Lecco perché non ha saputo gestire il vantaggio per tutta la partita e soprattutto perché ha avuto la fortuna anche che Pittarella ha sbagliato il rigore ha iniziato il secondo tempo un rigore clamoroso solare che il direttore di gara Volpi non se ne era accorto in diretta ci ha avuto due minuti di VAR per capire che era calcio di rigore ottimo zero del Città che sta facendo un grande campionato un grande video campionato 12 punti in 8 partite squadra che si vuole salvare nel più breve tempo possibile per il Lecco è solo un appuntamento rimandato in questo momento con la prima vittoria un punto solo in 5 partite c'è tanto da lavorare per Luciano Foschi ma oggi qualche segnale positivo in più l'ha fatto vedere la squadra per l'appunto ne ho promossa in Serie B il Parma in questo momento vince 2-1 contro la Cremonese se vince va a quota 20 punti in classifica capolista assoluto in questo momento la squadra di Fabio Pecchia vediamo poi come si concluderà la partita pollicione sul video iscrizione al canale noi ci becchiamo al prossimo video bella ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.